Io ho iniziato ad avere un rapporto con Renzi di amicizia, anche un percorso politico tre anni fa. Io ho creduto nel suo progetto veramente fin dall'inizio, figuriamoci quando sembrava veramente una velleità e anche un azzardo reale. So che lui dovrà dimostrare sul campo poi di valere, però siccome credo in questa cosa io non la prendo neanche in considerazione, l'ipotesi che Renzi non ce la faccia. E quindi diciamo, te la chiudo esattamente in questo modo. Se non ce la dovesse fare io sono portato a credere che ci sarà un altro, ci sarà qualcun altro che inevitabilmente sentirà l'esigenza di fare in modo che questo paese cambi passo, cambi anche un po' modo di pensare e diciamo dal più alto livello fino al più basso recuperi la consapevolezza che per fare le grandi cose bisogna anche rischiare un po' e avere coraggio. Io penso che Renzi sia la risposta vera e bisogna semplicemente superare le tante resistenze che si sono manifestate, a dire il vero, non tra la gente ma nelle classi dirigenti, ma sono convinto che ormai il passo principale è stato fatto. Ora bisogna accompagnarlo e soprattutto dare la possibilità a chi non ha avuto responsabilità nei guasti dell'Italia negli ultimi vent'anni di costruire il futuro, che non è solo il futuro di Renzi, ma il futuro del nostro paese e delle nostre generazioni.